Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al post della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Ho sbagliato il drop, andiamo all'altro edificio, andiamo all'altro edificio Se vuoi qua posso andarci sul tetto eh Dai ci vado, dai ci vado, ci vado, ci vado, ci vado Ci vado, scendo giù con la pistola Ok, gli piazzo una trappola subito sopra Ok, ok Uno l'ho noccato, l'altro no, c'ho il pompa ora Ho fatto pure l'altro Ti servono le bende a te? Ti è piaciuta l'aggressione così, Marzo? La casa, eh, non c'ho niente per pusharlo, sto vedendo di trovare qualcosa e vado Casa sopra Ziz, quella vicina alla clock Ok, vado Vado, 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 vado Uno ce l'ho qua sotto, aspetta Magari è lui Bravo Marzo Era lui, comunque Che è? Ma Andiamo Alla L, alla L Alla L Let's go Bravo Cazzo quanto sei arrivato veloce, Marzo Eh, piate Erchug Mamma mia, le granate sono sbroccate Andiamo 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 a dare un'occhiata all'isola Bravo Marzone Grazie, ma non ho fatto un cazzo Niente, possiamo tornare indietro No, no, pazze Vieni qua Trovati, 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 trovati Punta 120, punta 120 120, casa rotta 120, casa rotta C'è uno che sta giocando con i palloncini L'hai isti? Sì, senza faccia è morto Non ancora Ora sì Marzo, chiuditi Chiuditi, Marzo Uno loccano Ma no Ma mi ha preso uno Era in fondo, in fondo Ah no, ma stanno a sparare pure quei due stronzi là Uno loccano Perché stanno mirando tutti a te No, no, ma stanno a sparare pure che Ma questo è di un altro team, quindi Sì, sono tanti Sono un po' No, ma che stai a fa' Oh Mamma mia, bra Oh Andata a 2.000, eh Sei veramente andato a 2.000 Bro, ma che devo fare per giocare così? Eh, lo so Bro, devo andare per forza a 2.000 Non ho altro modo per sopravvivere a queste cose Eh, io infatti me sono cartato Non ci sa Cioè, erano troppe Quello di prima Quello di prima Oh sì Come sniped 2 metri Altra gente Potrebbero essere loro, eh Ma sì, ma c'erano 4 team Ma secondo me Ma che è? Ma questo no, era lo zonco Ma che sto avvenendo? Da qua che è my watching Venga Oh, la volta La pe mai È tuo Non ho capito Oddio, fa anche un rumore ambigo Questa è buongiorno Siamo dalla folletta No, non ce la faccio Mi fanno male Mi fa male la mano Non sono abitato A fare i movimenti Tutti veloci Lunghi E roba varia Cioè, così è tipo Un aborto per me Guarda che qua va indietro, mu Che vuol dire? È che è indissima No, ce la dovrei fare Vedi che fai un attimo Vai a fatica Eh vabbè, dai Giochi meglio in full HD No, un'impressione È solo che sta in soundfire Ma avrebbe fatto di più Questo è il game delle 29 kill Ma sono nemici questi Bello Cosa? Dov'è? Non lo so A base in low ground C'è altra gente Fai veloce Fai veloce Fai veloce lo troppo E nasconditi O Fai qualcosa Perché sei a giocare senza mitra? Perché Quando giocherò in torneo Mi porterò più utility Ti vuoi fare due cure? Sì Due cure o due esplosivi addirittura Mi porto O il cecco O quello pesante Se si trova Perché me la cavo abbastanza Con il cecco Obbligato quello Un hit Che vale una kill Sì In competitive Sì Perché la gente Non ha gli HP Ma io per quello uso Ma uso il cecchino apposta Io Ma sono due Eh sì Ma quanto ne hanno? Un bot Ragazzi non è possibile C'hanno 3000 di vita Sono di zombie Eh ma è rotter che ha Ok me l'hanno noccato da là C'è uno sotto qua Ti c'ha a sé Orca puttana oh Ma voi dite che sono loro Sono loro? Non sono loro Devi Visti Sono in build fight Due team diversi Tutti quelli ally Se non l'hanno Ma che cazzo è successo? Oh? Oh 번 Oh No I Grazie a tutti Uff No 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 Non posso costruire Cazzo No 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 No